Ultimo aggiornamento di oggi con Muoversi in Toscana, ancora buona serata da Mauro Ciutini. Un incidente dove è coinvolto anche un camion, provoca code in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Firenze, mentre in direzione di Roma c'è un veicolo in avaria, segnalato tra Chiusi Chianciano e Fabro. Code anche all'uscita di Firenze Sud, provenendo da Bologna. Ci spostiamo sulla Bistiberina, la E45, lavori nel tratto compreso tra Val Savignone e l'incrocio di Canili, c'è una riduzione di carreggiata in direzione dell'incrocio con Ravenna. E per chi viaggia domani in Toscana, il tempo previsto dall'AM, nuvolosità variabili, locali addensamenti più consistenti sulle zone centro-settentrionali, possibili piogge in provincia di Massa e Lucca. Buona serata, è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.